ecco guarda che cucchiaia ci serve anche lo mangiare che bravo ottimo buona bravissimo bravissimo mi buona 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 buon Eh, bandito, cosa fai? Cosa fai bandito? Fai fattigione? Sei bravissimo Cosa succede nel canale? Eh, dentro Cosa succede nel canale? No, l'altra parte Esatto Guarda, va bene Faccio un po' di destra e un po' di sinistra